Il ruolo dell'assistente spirituale all'interno di un'associazione laicale che sottolinea il ruolo dei laici nella Chiesa, oggi come si configura? Il ruolo dell'assistente è proprio il ruolo che è legato al ministero, all'esercizio del ministero e dunque si tratta appunto di assistere, vale a dire, di accompagnare il cammino dei fedeli laici e offrendo tutto quello che può aiutare al cammino della Chiesa. Credo che la figura dell'assistente diventa una figura che rilegge in maniera molto creativa e molto utile la figura del ministero in quanto tale, cioè di una realtà che è totalmente a servizio della Chiesa perché ciascuno possa trovare il proprio compito proprio nella vita personale ma anche dentro la vita ecclesiale. Ecco, l'azione cattolica cosa può dare ai preti ambrosiani? Può dare, credo, in questo momento un impulso molto importante a pensare questo cambiamento d'epoca, questo passaggio d'epoca che stiamo vivendo con grande intensità, con grande fatica. credo che dentro la passione anche dell'associazione può trovare degli spunti molto importanti e credo che i preti possano trovare anche un grande sostegno anche in questo momento di fatica nel loro ministero, di trovare laici che sono impegnati ma che sono molto vicini e che vogliono condividere fino in fondo la missione della Chiesa. Il sogno dell'assistente diocesano della CI qual è? Ma il sogno è proprio che questi tre grandi verbi che da un po' di tempo ci accompagnano e che credo accompagneranno anche il cammino dopo l'assemblea elettiva, cioè questo pregare, pensare, appassionarsi diventino proprio una radice per costruire la forma della Chiesa che ha da venire e tra l'altro una forma di Chiesa che non è lontana dal passato. È interessante che questi tre verbi riprendono quello che nell'antica tradizione ebraica erano le tre colonne del mondo che poi sono completamente passate dentro il Nuovo Testamento soprattutto attraverso Paolo e cioè la preghiera e lo studio appassionato e anche la carità. Un documento assembleare importante quest'anno proprio per l'assemblea diocesana elettiva. Quali sono i cardini di questo documento? Beh, innanzitutto questo documento è proprio il frutto di un cammino lungo che ha coinvolto non solo il Consiglio diocesano ma il territorio di tutta la nostra diocesi e nasce proprio dall'impegno di riflessione dei gruppi locali. Per questo è innanzitutto importante. Tra i temi che dentro vogliamo sottolineare c'è sicuramente il risottolineare l'importanza di tornare all'essenziale, quel tentativo di unire fede e vita che fa parte proprio del nostro cammino cristiano. Come azione cattolica riteniamo importante che i nostri gruppi di adulti, di giovani, di ragazzi rimettano al centro questo. Da questo punto di vista c'è anche un impegno importante a rivedere le regole di vita che hanno caratterizzato il nostro cammino. Sicuramente c'è un impegno per la Chiesa diocesana, per la Chiesa locale, in un tempo che Papa Francesco ci dice essere il tempo della Chiesa in uscita. E allora anche su questo il documento assembleare chiede ai gruppi di interrogarsi su cosa vuol dire essere un'azione cattolica in uscita, essere dentro comunità che devono assolutamente aprirsi e trovare nel mondo il senso della loro missione. Non da ultimo l'impegno del pensare. Pensare è uno dei tre verbi che caratterizzano lo stile associativo. Pregare, pensare, appassionarsi, abbiamo detto diventano un po' la sintesi di quello che è il nostro cammino in azione cattolica. E allora anche qui nasce un po' la volontà di riprendere in mano i temi anche spinosi che oggi l'attualità ci mette di fronte. Come laici di azione cattolica vogliamo impegnarci anche nei prossimi anni a restare dentro questi temi con la fatica di approfondire e di confrontarsi con gli altri. E da ultimo proprio questo tema delle alleanze riteniamo essere sempre più importanti. Non si cammina da soli, questo lo sappiamo bene, allora vogliamo fare i primi tentativi anche per affrontare questi temi. In questi giorni anche la presentazione del bilancio di missione non è il primo anno. Quali sono, diciamo così, i dati che più emergono e che più anche possono stupire? Sicuramente il bilancio di missione sta raccontando un po' la storia di questi anni. Un'associazione che nonostante il calo numerico cerca di restare significativa nel territorio. Il fatto che ci siano tanti itinerari, ad esempio degli adulti ancora attivi, a livello diocesano, ci dice come la proposta sia una proposta che ancora viene richiesta dalle nostre comunità parrocchiali. Un dato sicuramente significativo è anche l'impegno a costruire progetti che partano proprio dalle domande specifiche del territorio. Grazie all'aiuto, ad esempio, della FAPA, grazie all'aiuto di tutte quelle realtà che accompagnano il nostro cammino associativo, in questi anni abbiamo visto anche nascere dal territorio con fantasia, con creatività, il tentativo di dare vita a progetti, a percorsi nuovi. Quindi da un lato un po' l'ordinarietà, anche preziosa, le tante lezio presenti nel nostro territorio, i tanti itinerari formativi, e accanto a questo anche il tentativo di pensare a qualcosa di nuovo.